Vogliono riscattarsi dopo aver scontato i propri conti con la giustizia. Loro sono i fratelli Rocco e Angelo Bassora, fautori della nascita di una situazione di ex detenuti. Però non trovano lavoro. Porte chiuse ovunque. Solo lavori saltuari e tante promesse non mantenute. Non trovo lavoro perché il sindaco Lucetta, all'epoca oggi presidente della regione, ha fatto un protocollo d'indesa contro i mafiosi oppure contro quella che ci hanno, non l'aggravante dell'articolo 7. Per questo motivo l'amministrazione comunale e tutte le persone che io chiedo lavoro non me ne danno perché avranno problemi. Lei ha chiesto anche l'aiuto dell'amministrazione comunale eletta dal sindaco Messinese. Che risposte ha avuto? Ho avuto risposte negative e con tutta la buona volontà che io ho messo, ho fatto volontariato, ho pulito Gela. Per quanto riguarda il volontariato io posso andare dovunque. Per quanto riguarda un piccolo stipendio, un stipendio decente, trovo le porte chiuse. Da qualche mese a questa parte Fratelli Bassola ripuliscono il giardino dell'Acropoli adiacente al museo archeologico grazie ad un accordo con il Lions Club. Poi il nulla. Noi stiamo dimostrando di nuovo per la millesima volta di sapere lavorare e di avere volontà di lavorare. Noi stiamo lavorando là per un piccolo contributo mensilmente che non è niente, però con questo contributo non si può vivere. Io chiedo per la millesima volta all'amministrazione comunale di avere una sensibilità, di darci un posto di lavoro e noi dimostriamo di sapere lavorare. Io ho invocato striscia alla notizia, le Iene, quinta colonna. Ora mando un'email a Barbara Russo perché è veramente difficile vivere senza avere un piccolo stipendio. Io con tutta la mia buona volontà sto avendo difficoltà. Io sempre mi metto in mano Dio e la sensibilità di questa amministrazione comunale. Quando vi presentate ad un'impresa, ad un'azienda, ad una ditta, ad un negozio, cosa vi dicono esattamente? No, io mi devo cautelare perché ho paura anche io perché se ci vado la possono prendere anche come minaccia. Allora io evito di andarci perché sicuramente troverò le porte chiuse, anche quando che ho fatto anche io una piccola intervista per quanto pulire le vetrine dei negozi con tutta sempre la buona volontà di avere un'offerta. E ho trovato le porte chiuse perché mi hanno detto che le puliscono le commesse. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una mano d'aiuto al comune. L'ultimo appello che io lancio al sindaco è di trovare un escamotasci sempre sulla normalità e sulla legalità, di farci lavorare perché l'amministrazione comunale precedente ci ha fatto lavorare. Come mai questa amministrazione non ci fa lavorare? Lei ha una moglie e tre figli, lei chiede una conclusione, come fate a vivere? Vivo con la grazia di Dio, io mi metto in mano a Dio e con l'aiuto di Dio vivo tutti i giorni.